Un mio amico per poco a tutti! Eccomi qui per continuare la serie di classe random su COD. Sono sul sito random class e quindi sono anche a livello 55 e procedo subito con creare la classe random. Vediamo un po' cosa mi sbuca. No! Ma che cosa è? Con l'RPG! Credo che una classe più random di così si muore proprio. Io sì, accetto la sfida. RPG, C4 e basta. Cioè questa è la classe? Io la porterò avanti! Sì! Andiamo su COD! Eccoci qui su COD. Ho fatto una partita prima con la classe creata, che è questa qui. E io stavo pensando di mettermi sciacallo. Seriamente, stavo pensando di mettermi... Perché voglio mettermi sciacallo? Perché il bazooka ti dice subito l'arma nel bazooka. E non so. Adesso provo. L'obiettivo di questa partita, devi stare... Certo! L'obiettivo di questa partita, stavo dicendo, è completare la partita in positivo e fare un po' di kill anche con l'RPG. Credo che mi avvalgo dei C4 per fare un po' di stragi. Perché le munizioni le finisco subito. Le munizioni le finisco subito. L'RPG è pesante. Io miro un culattone proprio che non si muove. Io adesso non lo so come fare. Appena sbucano, lo truscito, eh. Che cazzo? Dov'era? Come ha fatto l'RPG a non ammazzarlo? Che cazzo? Dai! Era pure... Sto rosicando. 25% con un RPG. Ma io non lo so. No, non lo so. Non è possibile. Ho fatto una partitona prima. E adesso devo perire così, adesso, eh. Adesso devo perire, adesso. Guardalo dove campera! Ok. La missione non lo so più. Mi sto incacciando, mi sto incacciando. Avete visto dove campera quello? Vai, vale! E non manco, corre. Non corre! Non posso fare... No, 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 no. Non puoi giocare con queste merda di classe! Questo che fa esplodere le macchine! Ancora! Non puoi, non puoi. Oh, ti ho portato con me all'inferno! Guardalo quei 360 e poi gli faccio gli hitmarker! Cioè, non è possibile una cosa del genere. Non è possibile. Non è possibile. Che classi di merda! Sta gente campera, sta gente fa schifo proprio! Fate schifo, fate! Con l'RPG ho qua! Hitmarker! Hitmarker! Cazzo come camperano! Cazzo come camperano! Non si fanno schifo da soli! Non si fanno schifo da soli! Movi ben coppia! Non muoio! Non muoio! Non muoio! Non muoio! Non muoio! Non muoio, no! Non muoio, no! Tu lo capisci subito! E i camper adesso li prendo tutti, tutti io, tutti io! E devo fuggire e accoltellare il gribbio! E adesso ti prendo! E adesso ti prendo! E i camper fanno schifo! Basta! Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? ha crepato dove siete? dove siete? dove siete? dove siete? dove siete? non hai finito i colpi eh? guardalo! 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 ti vengo a prendere io lo prometto? su questo bazooka lo prometto? che tu morirai? ne facciamo un'altra! ne facciamo un'altra! ne facciamo un'altra! camper win! gg! gg 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 gg! merda! camperone! schifose! schifose! ne facciamo un'altra ragazzi! stai zitto! non ti sto dicendo niente! ti sto insultando però non ti sto dicendo niente! ragazzi allora nella classe idiota ho fatto una prova devo mettere sciagallo! devo mettere sciagallo perché altrimenti non è possibile restare senza colpi se no mi devo dare da fa col coltellino! la rifacciamo sulla stessa mappa! credo che userò meno l'rpg e più il coltellino! un'altra cosa che ci tengo a dire è che l'rpg non è un'arma da giocare per rasciare! cioè è un'arma proprio di merda! cioè la usano i nabbi! l'rpg la usano i nabbi! veramente sto sclerata! sto troppo sclerata adesso mi sto arrabbiando perché c'erano quelli nell'angolino! quelle merde nell'angolino! che si divertivano! lì dentro sedute su un cazzo di tavolino! a star lì col fucile! no no non è cosa! non è cosa! non è cosa! quindi ci riproviamo! io ho consapevole del fatto che adesso ho sciagallo! quindi possiamo comunque proseguire nel tentativo di terminarla in positivo questa cavolo di partita! quindi si parte! si parte! si parte! si parte! essendo che ho due c4 non devo stare attentissimamente! devo usare la f per lanciarlo! io sono abituata! hitmarker! sempre e comunque hitmarker! non è possibile una cosa del genere! sempre e comunque hitmarker! basta! con un rpg porca p... cioè è più potente di una pistola, di un'arma! stiamo vincendo lo scontro! non mi puoi mettere a confronto! un rpg non muoiono! non muoiono! non muoiono! non muoiono! non muoiono! sono immortali! con un rpg! io con l'rpg esplodo subito! io con l'rpg esplodo! loro no! loro sono immortali! no! 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 come ho fatto a felare quel camp? come ho fatto a felarlo? come? come ho fatto? come? perché? Mi sono rotto Ma perché Perchè 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 Ma è possibile che tutti c'hanno antischage Impossibile Impossibile Che tutti c'hanno antischage Non è possibile Non è possibile Non è possibile che non muoia nessuno Con l'RPG Ti sto colpendo con un RPG Con l'RPG ti colpisco Con l'RPG non muori Con l'RPG Muori come Dio all'inferno Con me devi cadere all'inferno Con me Finirei all'inferno Schifoso Non siamo più in vantaggio All'inferno Zitto All'inferno Non parlare Devi stare zitto Vieni qui All'inferno All'inferno Zitto All'inferno Tutti all'inferno Vi porto Mori all'inferno Mori all'inferno Ok Tutti all'inferno Tutti costanti schegge Mori all'inferno Vai Gassiamoci Gassiamoci No Ok è finito Il video è finito Spero vi sia piaciuto Io Ci ho provato Ma ragazzi È difficile Con un RPG Fare delle cose Per bene Cioè È troppo lento Non avevo perk Ci ho provato Spero che questo video Vi sia piaciuto Un commento Un mi piace Per il proseguo E al prossimo video Ciao